il 59 ti parla volevo fare un piccolo intro che farò sul canale come prima cosa volevo dire che non farò, cioè farò soltanto FIFA e con modalità che farò saranno la carriera che faremo adesso e l'ultimo team l'ultimo team naturalmente è la divisione dalla divisione 10 alla prima normalmente FIFA io l'ho comprato ieri quindi ho una squadra potente da zero fin da un puntino e quindi ecco, dovremo fare tutto da zero e poi un'altra cosa è la terza invece modalità a meggere il terzo tipologia di video che farò saranno i migliori goal in tutta, in una settimana, ecco, della settimana quindi io sabato o domenica pubblicherò ecco questo video ma non perdiamo tutto e iniziamo ecco la Varese è un budget stranizzitissimo mai visto un budget del genere ma c'è di peggio, di poltrafone nel 200.000 beh, che culo allora iniziamo anti-champione, 5 minuti no, lo so, da me e poi riesco sempre di essere classico come sempre una nostra del genere ma io non lo so, devo tenere così non lo so, non lo so no allora ragazzi voglio farvi eserlo a una squadra, la vediamo insieme alla porta abbiamo bastianoni bastianoni fiamozzi, re, tra le di sanna, da perillo l'occhino d'oro l'occhino d'oro barbaris che so che abbiamo scegliato per andare a Roma coca di me 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 corte con borsalina fracca no, guarda scherzi calilla lo mettiamo qui perfetto di un buon attacco attacco forte in segretta 69 eeeh si ok questo c'era vabbè la squadra non è male l'ho visto adesso stiamo vedendo cosa male forse di due porte ea veci non è male c c acco d acci quindic non ная ma c 2 Tremolata Moment act E si vuole la spende l'offere Si vuole la spende l'offere Ok La scuola si è già fatta Più o meno Ok avanziamo E dire di avanzare Un cazzo si è morto Goura mandi si La donna salta Che cucciotto Io per prendere Se è già molto giovane Se la mani si apre per rompere questa Bogdanitrea Tirare di contatto per l'acquisto So forse a Milano Non compiere il cazzo Il quadro è importante Si Siamo Buona parte Di luglio ed agosto E siamo arrivati alla parte importante La partita Coppa Italia Sì Ho alcuni giocatori Altamente Non può essere alcuni giocatori Stavo cercando Perfetto Non posso prendere alcuni Tersino a destra Giochiamo naturalmente Questa fine non si perde ragazzi Parliamo agli ottavi Di Coppa Italia Giochiamo così Non me ne frega un cazzo Un saluto da Fabio Terese e Beppe Berlovi Benvenuti alla gara di oggi valevole per la Coppa Speriamo di assistere a un incontro emozionale Pagno 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 Oddio Paoletti 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 Pagno Pagno Paoletti Vabbè Angolo ci è stato il volo Travista C'è tanto Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.